Li troviamo qua, facciamo un giro un po' più centrale, vediamo che ne va, perché ho visto che se girano tanto sotto riva, tra l'altro le sotto riva non mangono, quindi boh, giriamo. Sotto riva. Eccola qua, una semplice trottina, nulla di che, come potete vedere. E adesso, come diritto, si slama, molto facilmente, perché abbiamo gli ami senza ordiglione, e andiamo a riva il cuore. Con questa qua l'abbiamo presa. Questa qui, se vedete, è una delle esche migliori consigliate quando c'è questa temperatura. Quindi, cioè, se vi capita anche voi di prenderla, ve la consiglio, ve la consiglio, molto buona. Vediamo se riusciamo a farne due. Due, attenzione. Di bellina anche questa qua. Bella, bella. Fantastica questa qua. No, questa ve la devo fare vedere un attimo, perché è veramente bella. Ve la faccio vedere un secondo. Guarda, mai vista una trotta così. Bella, bella. Se vedete, guardate che bei colori che ha. Fantastica, eh. Proprio bella, bella. Si è anche slamata. E adesso la rilasciamo, come sempre. Voilà. Oh, oggi pensavo che non mangiassero, ma... Con la pioggia, invece, guarda. Strano, strano, ma anche uno da Dio, guarda. Ne ho già fatte... Adesso io sono qui da mezz'ora circa. Ma ne ho già fatte 5-6. Molto, molto buono, molto bene. Questo è quello che mi piace. Quando vai nei laghetti, ci sta, ci sta, quando succede così. Tutte con quest'esca, comunque, ho visto, perché preferiscono colori così, in sti giorni. Proprio le ho viste, che preferiscono questi colori. Come si dice, non c'è due senza tre. Proviamo una terza, mette che ci va bene. Vediamo, vediamo. Non si sa mai. No, è aperto. La mia madre, la mia madre. Era piccolina, comunque. Diciamo che qui mangiano comunque sul fondo. Adesso proviamo a fare un lancio verso di là, vediamo come va. Ecco a dire. No, dai. Oh, c'è ancora uno che mi segue. C'è ancora uno che mi segue. Forse, forse, forse. No. No. No.